ma attenzione io da qua se lui non viene avanti qua e resta qua posso anche cambiare ma se la posizione non è più quella è quest'altra? e se è quest'altra devo fare in modo che lui venga avanti qui cosa posso fare qui? posso portarmi qua ma posso fare anche se mi porto qua e se no, quindi è lui che mi dice qual è la cosa migliore da fare in questo caso posso decidere qui avanti qua e mi portarmi qua posso decidere se mi dare questo passo per arrivare alla vita di istante o se non ho bisogno perché la vita di istante è già vista faccio direttamente questo quindi la giusta distanza mi dice quantità si devo fare se non ne devo fare un cibo non lo faccio e io sto qua, qua quando affronteremo a negoci mi prenderemo una cosa più dire quindi nello strumento ho un cigale con un cibo in tre vi viene qua dopo di che abbiamo detto cosa succede e lui tende a recuperare e il mezzo mentre tende a recuperare ecco qua che io direi qua e poi andrei via a fare l'altra io sono di fronte abbiamo detto che qui posso decidere di un'acqua posso decidere di un'acqua qui quando tirare e quando poter agire successivamente quindi se io tiro e lui avanza qua e io sono qua quando agisco quando lui da la va a recuperare e io mi dedico di recuperare quella posizione che lui mi sa ritorniamo sul fatto che l'onatore dice e questo prima non c'era l'unica condizione che posso muovere un attacco è quando lui è in una condizione di equilibrio precario e di massimo quella è l'unica condizione ecco qua che il te lo sto esitando adesso ne continuo che inizia l'unica anche qui c'è il tirare il filo come l'unica che è naturale no? allora io che ho difficoltà a fare qualcosa togliere così ho avuto senza fuori lì tiro non ha tiro blocco tiro tiro blocco eccolo qua a un descrivimento che perché ho un panico che mi fa studiare una maniera corretta studio su qualcuno che va a una posizione di stabilità o stretto dalla mia trazione spinta a ritornare a una posizione di nuova stabilità e io non ce l'esco esattamente nel mezzo mi fa mi fa un po' è Grazie a tutti